Valentina. Ah Valentina, vieni da? Parma, provincia di Parma. E tu come ti chiami invece? Mimmo. Bene. E ti lancerà insieme a noi. Davanti a lui sarà. E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più. Andiamo a te. E' un po' di più. E' un po' di più. e allora che mi dici? come? è fantastico e allora male com'è? non riuscivo a respirare con il naso di respirare l'avevo reso proprio io si ma dopo c'è siamo per i due guarda allora fai così guarda tira giù sinistro giù forte 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 da che dai la forza? vai 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 tira giù giù ancora 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 più forte più forte ok sulle mani entrate sulle altre 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 ora piedi sul sinistro così meno alto ma sulle destra vai preciza preciza uffla uffla che bello sei libera vai mano mano aspetta 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 che c'è tutto dietro aspetta passa tutto davanti aspetta 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 brava bravissima complimenti grande Mimo wow bellissimo fai così fai così fantastico diciamo a 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 e a Grazie per la visione!